Essere di più insieme. Essere di più è la vocazione e la responsabilità che ogni giovane ha e anche l'obiettivo formativo di ogni adulto che ne accompagna la crescita. I ragazzi che incontriamo spesso sono fragili, incerti, ma hanno tanti sogni e tante speranze. FOMAR mette al centro della sua attività formativa ogni ragazzo e ogni ragazza, investendo sulla possibilità di farcela attraverso un accompagnamento formativo mirato alla crescita personale, alla responsabilizzazione e all'acquisizione di competenze professionali. Da soli non si riesce perché l'obiettivo è molto ambizioso. È una partita, quella formativa, che si gioca e si vince solo insieme. Senza il sostegno, il collegamento, le risorse che l'Europa e la Regione Emilia Romagna mettono in campo, saremo tutti un po' più soli e un po' più affaticati. Oggi più che mai insieme è la pratica del nostro impegno in Emilia Romagna. In Europa, insieme, per essere di più. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.